Sebbene i locali dell'azienda debbano essere il più possibile aperti e accoglienti per ovvi motivi, è necessario garantire loro la massima protezione dai visitatori non autorizzati. I sistemi di accesso 2N rappresentano una combinazione di affidabilità e sicurezza. Il resistente citofono 2N IP Force è il più durevole sul mercato. Insieme a due microfoni e all'altoparlante da 10 W garantisce una comunicazione chiara e forte e annulla i rumori ambientali. Grazie alla superficie in vetro e al controllo degli accessi con multitecnologie, 2N IP Style è un citofono di lusso ideale per le aziende moderne. L'ampio touchscreen aiuta i visitatori a trovare immediatamente l'azienda e la persona desiderata. La sicurezza è rafforzata da un lettore con varie tecnologie e da una telecamera nel citofono con risoluzione HD in grado di identificare il chiamante anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'installazione è del tutto semplice grazie al nostro meccanismo di assemblaggio brevettato. Ogni reception in qualsiasi ufficio necessita di un telefono IP intelligente. Il dispositivo 2N IP D7A consente di visualizzare le videochiamate dal citofono e dalla porta d'ingresso premendo un solo pulsante. Utilizzate il dispositivo 2N Access Unit 2.0 per garantire un accesso rapido e smart tramite un tornello. Supporta l'accesso mediante un telefono cellulare. È sufficiente installare l'applicazione 2N Mobile Key. L'unità di accesso 2N controlla il movimento delle persone negli edifici. Negli ascensori gli utenti possono accedere ai piani selezionati in base alle autorizzazioni assegnate. Diverse opzioni possono essere applicate in differenti zone dell'edificio. Anche l'ingresso ai piani dalle scale o l'accesso agli open space devono essere protetti da visitatori non autorizzati. Il vantaggio del citofono 2N IP verso è che i visitatori possono chiamare la reception per poter entrare. Il receptionist può aprire la porta con un solo tocco sul display dell'unità 2N Indoor View con una risposta fulminia. La reception virtuale garantisce una disponibilità 24 ore su 24. Grazie all'affidabile app per cellulare 2N Mobile Video, chiunque può ricevere chiamate da qualsiasi luogo. Con l'aiuto dell'applicazione 2N Meeting Room nell'unità multifunzione 2N Indoor Touch 2.0, risolverete i problemi legati all'uso comune della sala conferenze ed eviterete possibili prenotazioni duplicate. 2N Access Unit M rappresenta una nuova generazione di unità per il controllo accessi. Grazie alla sua costruzione sottile può essere facilmente installata nel telaio della porta. Il lettore ha una centrale di comando incorporata, quindi per collegare il dispositivo all'impianto e per alimentarlo è sufficiente un unico cavo di rete fino alla porta. I dispositivi periferici, come serrature o contatti porta, possono essere collegati direttamente al lettore. L'installazione è rapida ed economica. Per la gestione di più dispositivi e per impostare le regole di accesso nell'edificio, chi è autorizzato ad accedere, quando e in quali aree, potete utilizzare il software di gestione 2N Access Commander, che offre varie funzioni tra le quali i log di accesso, l'anti-passback, la gestione del firmware, dei dispositivi e funzioni dal valore aggiunto, come il monitoraggio degli utenti, l'orario e il controllo presenze all'interno dell'edificio e la sincronizzazione con i sistemi di terze parti tramite il protocollo LDAP. Il vantaggio principale dell'intera soluzione di accesso di 2N è l'uso della tecnologia IP. Dimenticate i controller separati, schede di espansione e cablaggi speciali. Tutti i dispositivi sono interconnessi e alimentati simultaneamente tramite un'infrastruttura di rete, condivisa anche con telefoni IP e sistemi di telecamere. La serratura può essere collegata e alimentata direttamente dal dispositivo, quindi non è necessario alcun cablaggio aggiuntivo. Ne conseguono notevoli risparmi sui costi di installazione. L'integrazione gioca un ruolo fondamentale nella selezione dei sistemi di controllo degli accessi di comunicazione. Ecco perché noi ci affidiamo ai protocolli aperti. Ad esempio, è possibile integrare i sistemi di accesso 2N con sistemi di telecamere, WMS, telefonia IP o comunicazioni unificate e piattaforme di sicurezza unificate. Integrando i sistemi, si sarà in grado di controllare tutto, dall'ambiente di un singolo utente ai processi di configurazione automatizzati e questo consente di risparmiare tempo e denaro. Basta dare uno sguardo al lab di integrazione 2N e selezionare una tra le oltre 200 soluzioni. Un esempio eccellente è l'integrazione con Milestone. Integrando i citofoni e le unità di accesso 2N in Milestone X-Protect accresciamo l'efficienza di lavoro di un operatore di sicurezza e allo stesso tempo accresciamo la sicurezza di persone e proprietà. L'utente può monitorare gli accessi, verificare l'identità delle persone o impostare uno stato di chiusura in caso di emergenza direttamente dalla piattaforma X-Protect. Pensate ancora che 2N offra solo citofoni? Creare il futuro nel far entrare e salire le persone. Semplicità, sicurezza, innovazione.